Febo, qual è la posizione del Partito Democratico sul nuovo ospedale di Chieti? Noi vogliamo che la Regione se ne occupi come se ne sta occupando e realizza al più presto un nuovo ospedale a Chieti. Questo significa dare la soluzione ai problemi che ci sono oggi. Noi oggi abbiamo, ma non oggi, dal 2012, e questo io rimproverò sia a Chiodi che a Febo che non se ne sono occupati, uno Presidente della Regione e l'altro Consigliere regionale, abbiamo una struttura che ha seri problemi strutturali. Oggi si decide, ma già dal 2015 si è deciso e la Regione ha deciso, di investire sulla città di Chieti realizzando un nuovo ospedale. C'è dunque una disputa con il centrodestra di Chieti che non la pensa come voi? È evidente questo. In questi ultimi mesi lui ha buttato fumo agli occhi dei cittadini cercando di raccogliere il consenso elettorale a discapito della qualità della sanità a Chieti. E si è visto poi mercoledì in Consiglio Comunale dove Forza Italia e Cinque Stelle hanno votato un ordine al giorno che dice no all'ospedale nuovo a Chieti. A questo punto cosa farete per portare avanti la vostra battaglia e poi portare avanti le vostre idee? Noi continueremo sul solco già intrapreso con la Regione che dopo che ha inaugurato e aperto definitivamente il nuovo polo del cuore a Chieti che è sotto gli occhi di tutti ed è una realtà che è sulla nostra città quando invece il governo di centrodestra lo voleva chiudere addirittura Febbo proponeva di metterci un centro per gli anziani, un centro di ricerca per gli anziani oggi il polo del cuore è una realtà, noi faremo e chiederemo e continueremo a chiedere alla Regione di investire sulla città di Chieti e di realizzare un ospedale nuovo che darà sicuramente una certezza alla nostra città di avere una sanità di alta qualità.